Avrebbe approfittato della buona fede di un'anziana sola, peraltro malata ed ipovedente, spillandole continuamente soldi e talvolta arrivando persino a sgridarla e a picchiarla. Per il reato di circonvenzione di incapace, furto aggravato e finito in manetta il 61enne ragusano Roberto Scotton, il quale non è stato nemmeno denunciato dalla vittima, che prova ancora affetto per lui. Tutto è partito dalla denuncia di una vicina di casa che si era rivolta ai servizi sociali a causa delle condizioni di semi-indigenza in cui versava l'anziana vittima di cui si sarebbe dovuto occupare l'uomo finito in manette. Gli assistenti sociali intervenuti hanno riscontrato la totale assenza di igiene della persona e degli ambienti e hanno constatato che, nonostante la signora percepisse mensilmente una pensione di mille euro, non aveva di fatto neanche pochi euro per fare la spesa quotidiana. I militari sin da subito hanno verificato che la pensione della signora era stata sempre riscossa all'ufficio postale e che l'unica persona con cui la signora aveva contatti era Scotton, che abita nello stesso quartiere e che quotidianamente la andava a trovare. L'uomo, già noto ai servizi sociali quale alcolista, frequentava la casa dell'anziana da almeno due anni nelle ore serali e, approfittando dello stato di abbandono e solitudine patito dalla donna, era riuscito ad instaurare con lei un rapporto di fiducia ai limiti della dipendenza psicologica, riuscendo persino a farsi ospitare in casa. Inoltre, facendo leva sulla compassione, Scotton era riuscito in vari modi ad indurre la signora a consegnargli del denaro, accampando varie scuse. Talvolta lamentava di soffrire di gravi patologie, per cui chiedeva aiuti economici per interventi fittizi e talvolta si presentava da re con la barba incolta e trasandato dicendole di non avere i soldi né per andare dal barbiere né per fare la spesa. Vari episodi di questo tipo sono stati documentati dalle interaccettazioni ambientali effettuate in camera da retto della donna, dove trascorreva gran parte delle sue giornate costrette a letto. Inoltre, in più occasioni, era restato non contento delle somme di denaro che l'anziana gli consegnava, la rimproverava, come accennate, ed arrivava a picchiarla nell'intento di ottenere altro denaro. Almeno in un caso, ripreso dalle telecamere, Scotton si è anche appropriato del denaro che la donna conservava in un mobile nella camera da retto. Nel corso delle indagini, la signora, totalmente succube dell'uomo, non ha inteso spoggere quelere in quanto riteneva che Scotton fosse l'unica persona che materialmente le dimostrava affetto. Quella degli anziani resta sempre la categoria più a rischio per quanto riguarda le migre di malintenzionati e truffatori, specie se le vittime designate vivono da sole. Il caso della signora Ragusana, 81enne, succube del Ragusano, è un caso emblematico in tal senso. Ecco allora i suggerimenti dei carabinieri per difendersi da brutte sorprese. Attenzione, diffidate da chiunque non conoscete e che rappresenti così all'improvviso un interesse per voi inspiegato. Attenzione anche, la chiediamo a tutti i cittadini che si accorgono di situazioni di questo tipo e che possono materialmente segnalarcele, facendoci presente quelli che sono le persone sole che possono incorrere in queste cattive esperienze. Sì, purtroppo nel mondo d'oggi capita spesso che le persone, le fasce deboli, in questo caso gli anziani, vengano prese di mira da malintenzionati. Persone che sfruttano la debolezza fisica e a volte anche psicologica per approfittare di quelli che possono essere in questo caso i beni materiali, quale poteva essere la pensione, che è l'unico profitto, l'unico bene che la signora percepiva. Quello della 81enne privata della pensione, talvolta picchiata, dovrebbe dunque restare un caso isolato, ma troppo spesso non è così.